Siamo qui per un tema che ha strettamente rapporto con l'argomento generale anzi io sono particolarmente lieto del fatto che si sia voluto porre in grande evidenza l'argomento che ora sarà trattato dal direttore del museo egizio mentre noi altri faremo la pars adiecta come si dice in latino lui sarà il vero protagonista perché il mondo classico greco romano non era autosufficiente e sono i classicisti che hanno questo orgoglio mal riposto quando Ecateo poi Erodoto sono andati in Egitto hanno scoperto che l'antichità era molto più antica dei greci e Platone ha scherzato un po' su questo fatto dei greci che sono fanciulli rispetto a una civiltà antichissima, ramificata, influentissima diceva Marx che Platone ha copiato le caste egiziane e le ha trasferite nella Politeia la Repubblica di Platone è una brutta copia delle caste egiziane quindi mondo antico, ecco il mondo antico è molto più grande purtroppo è difficile conoscerlo tutto, questo è fuori di dubbio la nostra ignoranza dell'Oriente ci porta ad un atteggiamento di sufficienza verso quella altra antichità quindi per fortuna il direttore dell'Egizio ha accettato di dare una mano ai nostri lavori affrontando un tema fascinoso e anche fortunatamente documentato perciò il titolo dell'incontro è il papiro dello sciopero e infatti mi taccio rapidamente pregando subito il direttore Christian Greco di illuminarci un po' sullo sfondo su come è nota questa preziosa documentazione cosa significa, che epoca risale e noi altri faremo un po' di chiose nei limiti delle nostre conoscenze ma innanzitutto le farà il direttore del parco archeologico di Ercolano che come vedrete ben presto ha molte informazioni di cultura materiale da fornirci grazie dunque sono io che ringrazio il professore in realtà in minoranza sono io oggi che è di fronte a cotanti classicisti e devo cercare di presentare un periodo non semplicissimo ma importantissimo dell'antico Egitto allora cerchiamo intanto di inquadrarlo cronologicamente il nuovo regno 1550-1070 è di fronte egittologiche che vanno prese con grano salis un mio carissimo collega Jakobus van Dijk ad un simposo sulla cronologia tre anni fa disse in realtà non vi è data cronologica salda nell'antico Egitto e dovremmo rimettere in mano tutto adesso non ricomincio anche con la cronologia perché se no diciamo che comunque questi termini dal sedicesimo secolo all'inizio del primo millennio avanti Cristo denotano un periodo del nuovo regno in cui Tebe diventa la capitale religiosa dell'Egitto la Tebe delle cento porte di cui ci parlo Mero è una... convive con Menfi che invece è la capitale che si trova a nord vicino alla necropoli di Saccara Menfi sarà la capitale per quasi 3000 anni e a Tebe un dio locale il dio Amon diventa il dio nazionale pian piano tutti i sovrani cominciano a costruire dei templi aumentano le dimensioni dei templi pensate chi di voi è stato al Tempio di Carnac ha visto le grandi porte monumentali che si susseguono uno dopo l'altro e che vengono datate ai vari sovrani che si succedono sul trono dell'Egitto cambia anche profondamente e qui arriviamo all'argomento che ci interessa il culto funerario il sovrano non verrà più sepolto nelle piramidi il sovrano viene sepolto in tombe ipogee che si trovano nella valle dei re viva nel moluc come viene definito in arabo e qui c'è una differenza fondamentale mentre la piramide aveva un tempio della valle e un tempio funerario in cui si poteva perpetuare il culto del sovrano questo non era più possibile nella valle dei re allora si costruiscono i templi di milioni di anni dedicati al culto del farone ricordiamo quello dei colossi cosiddetti di Memnon che nulla hanno a che fare con l'Egitto che ricordano Memnon principe etiopo è morto a Troia e quindi questa sovrapposizione di interpretazioni in realtà tarda fatta in epoca classica non riguarda l'Egitto ma poi c'è il tempio di Medinetabu c'è il Ramasseu c'è il tempio di Setiprimo c'è il tempio di Tutmosis III per costruire i templi di milioni di anni e per costruire queste tombe che si trovavano nella valle dei re Amenhoteprimo decide di fondare un villaggio questo villaggio lo chiama Pademi oppure proprio che significa il villaggio oggi si chiama Der el Medina ovvero il monastero della città perché c'è un monastero cotto che si sviluppa lì vicino al tempio dedicato alla Dea Hathor sviluppato in età tolemaica cosa aveva di particolare questo villaggio? all'inizio erano 120 famiglie alla fine del nuovo regno siamo quasi a 300 famiglie che avevano un compito fondamentale quello di costruire le tombe nella valle dei re nella valle delle regine avevano una settimana lavorativa di otto giorni con due giorni di pausa pensate lavoravano otto ore al giorno se si pensa a quanto abbiamo dovuto lottare in Europa per arrivare a una settimana a un giorno lavorativo di otto ore erano dipendenti dello Stato per cui lo Stato si prendeva cura di loro dava loro tutto ciò di cui avevano bisogno gli strumenti di cui avevano bisogno per costruire le tombe questo villaggio viene scoperto scientificamente a partire dal 1903 da quando Ernesto Schiaparelli allora direttore del Museo Egizio comincia gli scavi nel villaggio di Derel Medina comincia nel 1903 comincia a nord poi pian piano si sposta verso sud nel 1906, nel 1909 al contempo scava le necropoli ad occidente e ad oriente del villaggio e trova tantissima cultura materiale che poi riporta qui al Museo Egizio purtroppo a partire dal 1920 gli scavi italiani vennero interrotti e vennero invece poi portati avanti da Bernard Bruyere e quando si è andata a Derel Medina oggi vedete la casa francese io sottolino sempre dicendo beh in realtà è la casa italiana che adesso è stata presa dai francesi pensate però vi do un elemento importantissimo come la Francia abbia sviluppato questa branca dell'egittologia a Parigi ci si può addirittura specializzare in Derel Medinologia dedicare cinque anni della propria vita allo studio di questo villaggio villaggio per noi unico vi devo inquadrare anche un'altra cosa noi abbiamo pochissima archeologia insediativa nell'antico Egitto si contano davvero nelle dita della mano le città, i villaggi che sono stati scavati e quindi avere la possibilità di osservare della cultura materiale che proviene da questo villaggio ci dà delle chiavi interpretative che ci permettono di capire come vivevano le persone come erano le loro relazioni abbiamo un'altra fortuna incredibile mentre la percentuale di alfabetizzazione nell'antico Egitto era dell'1 e del 2% a Derel Medina si toccano punte del 40% perché cosa facevano questi lavoratori? beh, innanzitutto andavano a scuola andavano a scuola e dovevano imparare l'egiziano medio che è quello che impariamo anche noi come prima fase linguistica che non era la lingua che parlavano loro era la lingua di mille anni prima era la lingua rituale che dovevano copiare nei testi che scrivevano nelle pareti dei templi e questo era fondamentale perché proprio in quel periodo le tombe vengono decorate con la cosiddetta amduat ciò che avviene nell'aldilà il libro delle porte ci narrano del periplo solare per 12 ore nell'aldilà e della suddivisione del tempo vi devo anche dire che questo non era semplicemente una decorazione come quella che potremmo trovare nelle nostre cattedrali dove ci sono degli episodi biblici che si riferiscono ad una narrazione di un tempo passato che viene ricordato per gli egiziani ogni notte c'era l'Iket Nunco ogni notte c'era la lotta cosmogonica fra bene e il male e ogni notte il male avrebbe potuto vincere e il bene venire a finire e l'Egitto e quindi il mondo venire a finire quindi avevano un sapere particolare, importantissimo che era legato alla sopravvivenza stessa dello Stato il nome degli abitanti del Medina il loro ruolo era Sejma'ash emset ma'at si dice in egiziano ovvero lavoratori nel luogo della verità questo capire cosa significasse questo fu scoperto da Yaroslav Zerni negli anni 60 del 900 proprio nel nostro museo lui pensate erano gli anni del dopoguerra doveva arrivare dalla cecoslovacchia e pensate cosa voleva dire negli anni 60 del 900 la cecoslovacchia venire a Torino era ospite dal professor Curto e poi veniva ogni giorno in museo e a un certo punto capì che questi operai erano degli operai particolari che avevano un ruolo importantissimo all'interno dello Stato e lo capì studiando quello che noi conserviamo al Museo Egizio che sono i frammenti del cosiddetto giornale della necropoli un giornale che ci attesta quale autorità straniere o estranea al villaggio venivano in visita le visite del visir le visite del faraone che ci attestano quale era il volere del faraone e quali erano gli eventi importantissimi che avvenivano nello Stato fra questi eventi ce n'è uno documentato che è l'oggetto della nostra discussione di oggi che è data l'anno 29 del regno di Ramses III gli operai stanno lavorando come tutte le mattine sono nella Valle dei Re sono divise nelle loro squadre la squadra di destra e la squadra di sinistra che significa coloro che decorano la parete di destra e coloro che decorano la parete di sinistra potevano lavorare in parallelo perché la tomba veniva costruita in varie fasi quindi c'erano ancora coloro che dovevano scavare negli abissi della montagna nella parte più lontana e coloro che invece stavano già levicando la roccia e decorando i pittori che poi decoravano con un colore con i vari pigmenti i rilievi che erano stati apportati nella roccia ebbene gli operai si riuniscono fuori dalla tomba e decidono di smettere di lavorare a quel punto poi decidono anche di muoversi non si fermano alla Valle dei Re ma scendono e vanno a posizionarsi di fronte al tempio di milioni di anni di Tutmosis III e chiedono al visir loro signore di comunicare al farone il signore delle due terre che loro non avrebbero ripreso più il lavoro perché da due mesi non ricevevano cibo non ricevevano unguenti non ricevevano profumi non ricevevano vesti e dicono al visir comunica al farone nostro signore che fino a quando non verrà posto rimedio a questo torto che ci è stato fatto fino a quando noi non verremo pagati non abbiamo più intenzione di continuare a lavorare il visir verrà e cercherà di pacificare gli uamini fra l'altro colui che scrive questo papiro è lo scriva reale Amomnacht scriva conosciutissimo di cui noi abbiamo più di dieci documenti al museo egizio ha una grafia molto raffinata e lui sebbene avesse un ruolo rilevante perché vi ho parlato di questa comunità ma non è che la comunità funzionasse con una gerarchia piatta ovviamente vi erano i cosiddetti capitani che erano gli scriveri reali e i caposquadra i quali peraltro non solo dovevano coordinare il lavoro ma erano fondamentali per quella che oggi noi chiamiamo la carriera che si poteva avere all'interno del del villaggio del Medivano potevano delegare dei compiti importantissimi potevano fare in modo che determinati funzioni potessero poi essere portati avanti da padre in figlio non solo erano molto temuti perché avevano una funzione fondamentale potevano affidare i giorni di ferie e voi direte beh i giorni di ferie eh no i giorni di ferie erano fondamentali perché si cercava di lavorare circa 200 giorni non di più però questi giorni potevano diminuire ed erano i giorni in cui gli abitanti del Medina si dedicavano alle loro attività private ovvero costruire cultura materiale mobili corredi che dovevano poi essere portati nelle tombe degli aristocratici e di altri colleghi provvedere alla decorazione delle tombe dei loro colleghi quindi un bravo pittore poteva essere ingaggiato da uno scultore ad esempio gli veniva chiesto potresti decorare la mia tomba questo permetteva loro di aumentare le entrate e di aumentare quindi anche il ruolo che avevano che aveva la famiglia non sappiamo se loro avessero o meno completa libertà di movimento ovvero noi sappiamo che ci sono dei controlli ben definiti ci sono i cosetti sa-u guardiani che pare non avessero un ruolo altissimo nella gerarchia poi ci sono i guardiani della soglia che sono quelli che invece dovevano assicurarsi che tutti gli strumenti utilizzati per decorare le tombe rimanessero lì che nessuno se ne appropriasse e che non venissero rubati e poi abbiamo i cosiddetti meggiai che sono delle vere proprie forze di polizia che pattugliavano tutta la zona c'è poi uno dei grandi misteri ancora di Drelmedina che non è stato risolto il ruolo del pachetmenher ovvero di un edificio con funzioni probabilmente amministrative dove sappiamo però che c'era anche un luogo di detenzione e quindi se qualcuno veniva trovato nella valle dei re fuori dall'orario di lavoro poteva essere fermato e processato e detenuto e voi direte ma come mai tutta questa importanza e beh purtroppo l'archeologia ci ha fatto capire perché era così importante perché da una parte le tombe venivano costruite dall'altro proprio in età ramesside e del periodo di cui stiamo parlando adesso comincia una crisi profondissima dello stato egiziano oggi diremmo lo stato aveva speso troppo rispetto alle sue possibilità e e questo si riscontra poi immediatamente nel fatto e ce lo dice il papiro dello sciopero che lo stato non è più in grado di pagare i suoi operai e gli operai cominciano ad arrangiarsi un po' da solo da una parte le rivendicazioni legittime dall'altro e questo ci fa da pandana il nostro papiro dello sciopero per comprenderlo fino in fondo bisognerebbe anche analizzare il cosiddetto papyrus abbot o papiro dei furti the robbery papyrus che si trova al british museum dove invece vediamo l'altra parte della storia gli operai che non vengono pagati gli operai che hanno difficoltà a continuare a far vivere le loro famiglie e ad assicurarne la sussistenza nottetempo si recano nelle necropoli e depredano quello che loro hanno le tombe che loro stessi hanno decorato e i corredi che loro stessi hanno compiuto pensate per comprendere quanto grave dovesse essere la situazione economica è comprendere innanzitutto che il sovrano per gli antichi egiziani era neceri era divino il capitolo 151 del libro dei morti ci dice che dopo la morte il nostro corpo non è più di carne ed ossa ma la pelle è d'oro e il sangue di lapislazzoli quindi profanare il corpo del sovrano sovrano che era l'unico che poteva avere quei testi di cui vi parlavo l'amduet e il libro delle porte significava mettere a rischio la sussistenza stessa del cosmo però c'è un passo del robbery papyrus di Londra in cui vediamo la profonda crisi in cui si trovava la società egiziana viene si svolge un processo noi abbiamo il verbale di questo processo e c'è un giudice che interroga una signora e le chiede questa signora nel frattempo è rimasta vedova e le viene chiesto come mai tuo marito notte e tempo si è introdotto nella tomba reale e ha portato via dei bacilli di bronzo e la risposta che viene data dalla signora è perché grazie alla fusione di quei bacilli io e i miei figli siamo sopravvissuti per tre anni ecco e questo quindi vi fa capire quale fosse la crisi economica profondissima in cui anche questa comunità che se volete privilegiata si trovava ad operare di lì a poco nel primo millennio noi assisteremo allo sfaldamento dello Stato saranno i sacerdoti di Amon a prendere il potere e a governare nell'Alto Egitto mentre un'altra nuova capitale si stabilirà al nord e l'Egitto stesso viene separato proprio uno l'ultimo scriva della necropoli reale la fortuna vuole che anche lui ce lo abbiamo al museo egizio è Buteamon magnifico sarcofago di Buteamon e Buteamon noi lo conosciamo dai vari graffiti lui viene mandato dal grande sacerdote di Amon Menche Perra in giro nella necropoli reale per attestare quello che è stato rubato e per mettere in sicurezza i sarcofagi dei grandi sacerdoti e dei faraoni sapete tutti che nel 1881 è stata trovata proprio al Deral Bahri il cascetto di Deral Bahri che è una sepoltura secondaria dove furono messi in sicurezza i sarcofagi e le mummie dei faraoni che erano rimaste intatti però tutti i loro gioielli erano stati rubati e vennero messi in questa sepoltura secondaria grazie a Dio perché è il motivo per il quale noi ce li abbiamo oggi e sono conservati al National Museum of Egyptian Civilization al Cairo quindi è una pagina diciamo col papiro dello sciopero comincia a documentarsi quella crisi economica profonda che porta a disgregarsi di quella idea di Stato di al di là di continuazione in eterno che si era maturata durante il nuovo regno fino a 50-60 anni fa si usavano delle periodizzazioni che lasciavano un po' il tempo che trovavano si parlavano non solo per l'Egitto ma in tutte le civiltà antiche del periodo aureo e poi della decadenza in realtà è un periodo interessantissimo perché è un periodo in cui i documenti ci fanno invece emergere e vedere qual era poi la vita delle persone vi do un ultimo elemento poi passo la parola mi scuso se ho abusato troppo del tempo a mia disposizione per farci capire come cambia completamente il senso dello Stato allora pensate che nelle tombe nella Valle d'Ere vengono decorate con questo testo che si chiama Amduat che significa ciò che avviene nell'aldilà e che ci parla del fatto di ciò che avviene al Dio Sole per 12 ore nella notte e cosa il Dio Sole debba fare per vincere e sconfiggere Apophis sebbene questo testo ovviamente sia stato sviluppato in ambito templare i sacerdoti non osarono mai durante il Nuovo Regno utilizzarlo perché era quasi un tabù questo testo apparteneva all'unico mediatore fra gli dèi e gli uomini che era il sovrano C'è Nefer terzo profeta di Amon all'epoca di Ramses III usa qualche excerta dell'Amduat ma in maniera molto limitata a partire dal terzo periodo intermedio dall'inizio del primo millennio invece i cittadini ormai diventano padroni del loro stesse del loro destino e quindi sacerdoti scrivi cominciano ad utilizzare l'Amduat in maniera indiscriminata lo mettono nei loro sarcofagi si fanno dei rotoli di papiro ne abbiamo degli esempi bellissimi al Museo Egizio perché lo Stato si è disgregato non c'è più il faraone che garantisce e quindi chiunque se lo possa permettere dal punto di vista economico utilizza questo testo e assistiamo anche a un qualcosa di incredibile perché non solo vengono depredate le tombe dei sovrani ma pensate che vengono riutilizzati i sarcofagi non so se voi vi siete mai interrogati quando andate a visitare l'Egitto vedete moltissime tombe del Nuovo Regno quando andate in un museo che abbia una collezione egizia trovate sarcofagi antichi li trovate dell'Antico Regno del Medio Regno trovate tantissimi sarcofagi cosiddetti gialli e successivi del primo millennio ma molto pochi del Nuovo Regno e dove sono questi sarcofagi? bene proprio una ricerca che stiamo portando avanti anche noi al Museo Egizio iniziata dalla dottoressa Menta dei Musei Vaticani che va sotto il nome di Vatican Coffin Project ci ha fatto scoprire un elemento interessantissimo ovvero il riutilizzo dei sarcofagi siccome e ce lo attesto una fonte letterale importante il racconto di Venamun a partire dal terzo periodo intermedio gli egiziani non hanno più il potere economico la forza politica la deterrenza militare per andare in Libano a prendere il legno che erano le conifere del Libano che il cedro del Libano che poi serviva per costruire i sarcofagi e non volevano usare il legno sicomoro l'unico legno autoctono dove trovavano il legno non potendo più andare in Libano nei sarcofagi precedenti e quindi li riutilizzano c'è un esempio che è il sarcofago di Iki in cui abbiamo una nonna una madre e una figlia che tutti e tre riutilizzano un sarcofago quindi avveniva addirittura all'interno della famiglia e quindi lo stiamo studiando adesso per vedere per ora è un'ipotesi di lavoro siccome il sarcofago non è semplicemente un oggetto ovvio anzi per niente non è un oggetto decorativo è per gli antichi egiziani lo chiamavano l'uovo è il luogo di trasformazione dove può avere luogo la vehem mesut la nuova nascita come poteva essere riutilizzato allora ipotizziamo che durante il cosetto rituale dell'apertura della bocca il culmine del funerale il sarcofago fosse importantissimo e poi potesse essere il corpo potesse essere tirato fuori dal sarcofago messo da parte e il sarcofago riutilizzato insomma una società in profonda trasformazione in grande crisi economica da cui deriverà una crisi politica e militare di cui questo documento al museo egizio è una delle prime attestazioni bene 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 grazie vengono alla mente tante riflessioni a margine questo documento così prezioso segna quasi il passaggio da un'epoca più felice diciamo prospera ad una invece di crisi sempre più profonda e come sempre succede le epoche di crisi sono le più documentate questo si potrebbe dire anche per la storia atenese per la storia romana il primo secolo avanti Cristo abbiamo mille lettere di Cicerone opere molteplici mentre epoche precedenti molto di meno va bene ma proprio questo elemento credo ci debba portare anche ad una riflessione comparativa comparativistica tanto più che queste civiltà non erano a scatola chiusa erano a contatto le persone viaggiavano mi viene in mente un elemento credo non del tutto trascurabile operai lavoratori che dipendono dal potere statale questo è un fenomeno che nel mondo cosiddetto classico appare una volta o due come utopia progetto mai realizzato Aristotele nella politica dedica quasi tutto il secondo libro a criticare in modo sprezzante le utopie Platone viene fatto a pezzi eccetera Falea di Calcedone Falea di Calcedone noi conosciamo solo grazie a Aristotele aveva proposto che tutti i lavoratori fossero dipendenti dello Stato in questa maniera si risolveva la crisi delle città greche dilaniate dai conflitti sociali ma qualche tempo dopo un uomo che aveva viaggiato molto e che noi trattiamo sempre un po' dall'alto in basso a torto e cioè Senofonte figlio di Grillo cavaliere ateniese forse assassino quasi certamente perciò se ne è andato in Asia con Ciro e poi ha girato tutta l'Asia ha fatto la prima fino ad Ecbatana poi è tornato di sopra ha conosciuto Agesilao in profondità Agesilao ha cercato di colpire l'impero persiano che a lungo aveva l'Egitto come sua provincia e Senofonte quando finalmente torna a casa sua scrive un opuscolo le entrate dello Stato in cui dice gli schiavi gli schiavi li dobbiamo via via far diventare schiavi dello Stato un po' per volta perché questa è l'unica maniera di uscire da una crisi endemica che è economica e sociale conflittuale allora questo modello da dove gli veniva da esperienze culturali non molto lontane lo dico così in maniera umile con tutte le prudenze fra l'altro è interessantissimo perché quando noi l'ESCHI ha fatto un'analisi di quale è il livello di alfabetizzazione degli antichi egiziani e si attesta fra l'1 e il 2% però sull'alfabetizzazione sulla scrittura si crea è tutto un sistema che serve a mantenere l'apparato statale religioso innanzitutto le parole fondamentali per avere una carriera nell'apparato statale vengono chiamate necerumedu parole degli dèi sono gli dèi che hanno donato la parola agli uomini dopodiché bisogna approcciarsi con un certo con una certa cautela queste parole che sono scritte in geroglifici che sono in parte sono ideogrammi ma per la maggior parte sono fonogrammi mantengono questa duplicità fra iconicità e fonogramma e quindi bisogna comunque trattarle col cautela abbiamo attestazioni che troviamo già in quinta dinastia in cui i segni per esempio vengono tagliati a metà per cui se una vipera cornuta che rappresenta il pronome personale di terza persona e il pronome possessivo di terza persona prende vita muore dissanguata non solo non solo quindi c'è questa quasi rispetto che si devono portare alle parole perché le parole derivano direttamente dagli dei ma coloro che sono responsabili dell'amministrazione ovvero gli scrivi sicuramente nella fase iniziale della storia egiziana hanno il doppio ruolo hanno un ruolo nell'amministrazione e un ruolo nel tempio quindi i titoli clericali amministrativi vengono duplicati il sistema poi in cui a partire dalla quarta dinastia quindi a partire dal momento in cui l'amministrazione pubblica diventa così importante viene rinsaldato dal fatto che il sovrano assume il titolo di Sara figlio del dio sole quindi è il sacerdote supremo il sovrano è l'unico che può aprire i templi per iniziare il culto al mattino in sua vece lo può fare il grande sacerdote di Amora il sistema poi statale di economico prevede una ridistribuzione dello stato fatto attraverso il tempio per cui sono i templi lo vediamo nel tempio del Ramasseum con i suoi incredibili magazzini che raccolgono gli inu si chiamano in egiziano quindi le tasse ne abbiamo una rappresentazione bellissima anche il museo egizio nella tomba di Iti e Neferu vediamo che le persone con i loro asini vanno a portare i sacchi di grano che vengono raccolti vengono contati dagli scrivi del tempio e poi il tempio grazie ad un'economia redistributiva le ridistribuisce in quel modo non è solo l'apparato statale ma è addirittura l'apparato clericale e religioso che impone poi quel rispetto molto bene certo il mondo invece antico greco romano che ha avuto un altro tipo di rapporti sociali la dipendenza personale è da un singolo padrone uno per liberarsene se non lo sopporta più scappa lo schiavo fuggitivo abbiamo detto conversando in altra occasione che Augusto alla fine mi pare delle geste si vanta di aver fatto restituire 35.000 schiavi fuggitivi c'è una lettera di Cicerone allarmatissimo perché uno schiavo acculturato suo se ne è scappato e quindi chiede ad Attico di fare di tutto per riacciuffarlo c'è l'epigrafe di Polla in Lucania che parla di schiavi fuggitivi residuo dell'armata di Spartaco che sono lì stati acciuffati da un pretore romano si scappa ci si ribella certo anche ma abbiamo però la fortuna di avere dei siti archeologici nei quali ci sono molteplici tracce di vario tipo epigrafiche archeologiche propriamente dette del lavoro della condizione del luogo in cui il lavoro si svolge e abbiamo anche la fortuna del direttore del parco di Ercolano che ora ci racconterà alcune delle molte testimonianze parlanti che attingono allo stesso tema che stiamo ora affrontando in effetti abbiamo dobbiamo immaginare un discorso su due livelli nel mondo romano da un lato ciò che conosciamo attraverso le fonti letterarie anche proprio il regime del lavoro con le due grandi filoni interpretativi uno filosofico pensiamo a Cicerone per esempio e l'altro giuridico proprio quindi proprio inquadramenti giuridici di quello che nel mondo antico si chiamava non lavoro la parola lavoro labor è un altro in latino c'è un senso diverso ma si chiamavano opere quindi entrava in un discorso più ampio tutti i tipi di operazioni entravano le attività che noi oggi diciamo lavorative entravano sotto questa dicitura delle opere e quindi questo è un discorso chiaramente l'archeologia ci mette di fronte ad una situazione molto più complessa lo fa ovviamente a Tercolano ora vi dirò qualche esempio ma lo fa in generale anche in altre situazioni archeologiche italiane romane italiane e anche altra cosa a tenere presente anche se la storia romana non ha quella diacrionia da brivido che abbiamo sentito qui vai da 3500 avanti con cose strutturate indigeni cose serie in Egitto avete sentito ma nonostante ciò anche il mondo romano ovviamente ha una proprio una modalità di interpretare il lavoro completamente diverso quando si parte dal periodo dell'inizio della Repubblica diciamo da quando abbiamo un minimo di cognizione a poi il periodo tardantico cambia cambia tantissimo questo regime e chiaramente anche il mondo archeologico ci dà tante testimonianze ora potremmo parlare per ore sapete che il tipo di lavoro il lavoro manuale non è ritenuto un lavoro almeno attraverso le fonti letterarie di grande livello anzi era uno di quelli più bassi eppure noi abbiamo tante prove fin dall'età arcaica di invece artigiani che firmano le loro opere addirittura spesso una delle novità oramai di qualche anno fa negli studi di etruscologia dove si studiavano proprio le ceramiche è quella di aver individuato anche delle vasaie donne che firmano i loro i loro i loro vasi quindi che dimostrano un rapporto di orgoglio cioè questi lavori manuali che normalmente venivano considerati da un cicerone qualcosa di proprio basso non era non faceva parte della definizione degli elementi che fabbricano il civis romanus proprio quello ottimo iure non solo dal punto di essere lo iure ma anche della virtù della virtù diciamo quindi loro dovevano avere la dignità dovevano avere l'onore dovevano avere una serie di cose che non erano facilitate dal lavoro manuale anzi per niente erano proprio negate negate tant'è vero che l'attività privilegiata della classe alta romana era l'ozium che non era l'ozium chiaramente come lo definiamo lo immaginiamo noi ma era un'attività era molto attivo molto operoso l'ozium a Ercolano prego come e ogni tanto non so come mai ecco adesso si è coegito c'erano dei testi che venivano chiamati sapienziali fino a un 15 anni fa adesso si è deciso di non chiamarli più così perché ci sarebbe una sovrapposizione con quelli che noi definiamo testi sapienziali biblici questi sono dei testi diversi iniziano con una perifesi pseudoepigrafica in cui una persona anziana finge di parlare con il figlio la persona anziana in genere è un visir quindi un ministro che parla con il figlio e gli dà le regole per diventare un bravo egiziano tra questi testi sapienziali c'è il cosetto Kemit che viene poi tra proprio Aderel Medina viene copiato in cui c'è una bellissima frase ti farò amare i libri più di tua madre perché quelli sono la fonte della salvezza lo studio è l'unico modo per elevarsi e quindi dici studia diventa scriva e poi fanno la satira dei mestieri che è incredibile allora comincia a dire non ho mai visto un faraone che mandi un porcaro come ambasciatore perché puzzerebbe non manderebbe mai colui che nel Nilo ha lavare eccetera quello che lavora nei campi si spezza la schiena eccetera quindi l'unica soluzione per evitare di lavorare e per avere una vita lunga è quella di studiare quindi c'è questo parallelismo interessante davvero davvero interessante chiaramente nel mondo romano questo si combina con una visione sociale proprio di classi sociali molto forti c'è l'ascensore sociale paradossalmente era più facile per uno schiavo per un liberto che per altri tipi di classi sociali ma ritornando un attimo al discorso che stavo facendo in effetti quindi abbiamo queste varie lozium dicevo proprio ad Ercolano abbiamo un esempio nella villa di Papiri la famosa villa di Papiri è l'unica biblioteca del mondo antico che sia stata tramandata 1800 rotoli di Papiro di cui più o meno 400 le giucchiati 200 proprio ben letti questa biblioteca a torto è stata per molto tempo definita semplicemente una biblioteca ma in realtà era una situazione molto più complessa oggi si parla di uno scriptorium cioè un luogo dove i Papiri venivano trascritti e commentati era proprio un luogo dell'ozium quello operoso aristocratico chiaramente villa di Papiri scusate se poco era di proprietà oggi si ritiene dei della famiglia dei Galpurni Pisones che era la famiglia con cui si sposa Giulio Cesare notate non loro si sposano a Giulio Cesare Giulio Cesare sposa loro sposa la Galpurnia la prima moglie e quando Giulio Cesare sparisce i Galpurni Pisones durano ancora un paio di secoli cioè queste erano le grandi dinastie diciamo le grandi grandi nobiles e le domi lombiles di Roma e qui in questa biblioteca appunto si praticava l'ozium si andava proprio si scriveva si trascriveva si commentavano opere quelle che abbiamo noi finora la maggior parte sono di tecnica filosofica proprio però in realtà sicuramente c'erano anche altri testi non solo greci ma latini quindi ritornando al discorso del del lavoro abbiamo appunto in tanti momenti testimonianze per esempio dell'impero romano nel periodo imperiale il primo secolo diciamo l'epoca di riferimento di Pompei di Ercolano noi abbiamo appunto testimonianza di questo anche orgoglio lavorativo da parte dei degli artigiani che nelle loro epigrafi funerarie menzionano il mestiere che facevano e d'altra parte proprio in queste piccole realtà avevano una funzione politica molto forte le corporazioni i collegia si chiamavano in cui erano raccolti gli artigiani dal punto di vista lavorativo non esisteva l'idea il singolo lavoratore non è che fosse detentore di diritti come noi possiamo così intuitivamente provare immaginare quelli che potevano avere un'influenza erano le corporazioni e le avevano anche molto forte ci sono forte questa influenza pensate a Recolano ce ne sono molto di meno ma a Pompei noi abbiamo tantissime iscrizioni elettorali che sono proprio di persone candidati che vengono molto favoriti dalle varie a seconda della corporazione che li sosteneva ecco che li sosteneva quindi esiste un mondo soprattutto il primo secolo dopo Cristo è un mondo in fermento in grande cambiamento dal punto di vista anche economico con queste classi in potenza subalterne che invece arrivano a livelli altissimi attraverso il sistema funzionale proprio a quell'idea che vi ho detto etica prima per cui un senatore un membro dell'elite non svolge in prima persona una serie di attività ma le fa andare avanti attraverso schiavi liberati per esempio persone di fiducia che possano condurre queste attività questo modello alto parliamo di Roma noi lo ritroviamo replicato anche a livello locale in questi centri che il Vesuvio ci ha consegnato ad una conoscenza assolutamente così incredibilmente profonda che normalmente non avremmo mai avuto se ci fosse stata una tranquilla continuità di vita durante i secoli e non si ferma a questo aspetto proprio di anche orgoglio lavorativo espresso per esempio nel mestiere che viene citato ma la nostra documentazione ci dà anche una serie di luoghi del lavoro dove c'è si lavorava e si viveva anche le famose spesso ci sono queste botteghe tutti avete sentito avete sentito sicuramente parlare di termopolia dove si vendevano le bevande il cibo perché i romani mangiavano a mezzogiorno per strada non avevano l'idea nostra del pranzo come noi è proprio una definizione dei tempi diversa chiaramente questi avevano spesso queste come anche le botteghe avevano delle pergole si chiamavano che erano degli ammezzati dove si viveva un po' quello che noi chiamiamo casa e bottega in italiano poi non è un dialetto diciamo diversamente ma ve lo risparmio e rassomiglierebbe molto all'egiziano antico per cui non voglio esprimermi in ogni caso loro vivevano e quindi noi abbiamo vari luoghi di produzione è una cosa molto interessante che contrariamente al periodo greco dove noi abbiamo interi quartieri artigianali ben localizzati all'interno della città i famosi quartieri ceramici dove si facevano i vasi oppure le officine di bronzo eppure queste erano dei quartieri abbastanza accorpati nel periodo romano concentrate questo tipo di lavorazione nel periodo romano invece noi li abbiamo un po' sparpagliati all'interno quindi sia attività legate a quello che oggi noi chiameremmo il terziario quindi commerciali sia quelle proprio di produzione ad Ercolano proprio in un incrocio tra il cardo inferiore e uno tra il decumano inferiore scusatemi uno dei cardines noi abbiamo per esempio una bottega che ha conservato l'unico esempio di tornio a vite alto quasi un metro e mezzo molto complesso di legno perché appunto abbiamo questa caratteristica Ercolano unica al mondo appunto noi diciamo prima con Christian dovremmo fare un gemellaggio per motivi diversi noi abbiamo il legno come ce l'ha abbondantemente l'Egizio questa pressa era stata messa in relazione in un primo momento alla lavorazione delle stoffe ma invece ultimamente si pensa che fosse legato alla produzione dei profumi e che era una produzione molto ben attestata in Campania noi abbiamo a Pozzoli per esempio proprio un quartiere che si chiamava il quartiere dei profumieri addirittura si chiamavano i profumati campani venivano definiti gli abitanti di Capua erano i campani in primo momento gli abitanti di Capua e parlando proprio dei profumi e sempre di questo quanto il mestiere invece conta tantissimo ci sono Capua aveva due fori due piazze una delle poche città del mondo romano non l'unica che aveva ben due piazze una si chiamava Albana dove c'era la Curia quindi insomma il senato locale l'altra si chiamava Seplasia che era la piazza dei commerci e dove il commercio principale era quello dei profumi Plauto in una sua commedia fa dire a uno dei protagonisti che la scena si svolge a Cirene e dice che ti possono andare bene uno degli schiavi che vuole in qualche maniera ritire il suo padrone che ti possono andare bene tutti i commerci che il Silfio possa arrivare felicemente alla Seplasia cioè non dice nel foro di Roma la Seplasia per capire insomma capua che cos'era e allora il profumiere per eccellenza non era esiste la parola profumiere in Lunguentarius era il profumiere in latino ma se tu eri un grande profumiere eri un profumiere arrivato ma non solo in Italia ma in Gallia abbiamo queste iscrizioni ce le abbiamo in Germania ti autodefinivi Seplasarius cioè sono come diciamo un sarto alla moda francese noi i sarti sono migliori nostri per dire un tempo sarebbe detto qualcosa di eccezionale proprio e questo per esempio dicevo a Vercolano uno dei punti del lavoro è questo come per esempio addirittura in pieno decumano massimo a dieci metri dal foro c'è la cosiddetta bottega del plumbarius dove è stato trovato un croggiolo piccolino di grandi dimensioni per fondere rifondere i vasi ci sono proprio i ritagli dei vasi che venivano riutilizzati per riparare perché il metallo veniva riparato in continuazione soprattutto i vasi che si usavano per la vita di tutti i giorni utili per le case lui questo ignoto ovviamente proprietà noi non lo conosciamo non conosciamo il nome aveva appunto il suo croggiolo aveva materiali addirittura dei lingotti sono stati trovati di piombo per preparare per fare il bronzo per mettere insieme a preparare gli elementi della fusione lingotti che vengono dalla Spagna perché chiaramente lì erano queste cose e addirittura però lui aveva anche come una sorta di mostra per far vedere il livello alto della sua capacità c'era anche un candelabro e una statua che evidentemente stava riparando una statuetta di Dioniso lavorata da gemina con una lavorazione davvero molto delicata poi abbiamo oltre ai luoghi del mestiere abbiamo anche i ferri del mestiere e c'è un luogo si chiama l'officina del gemmario dove appunto è stato trovato il materiale sia grezzo sia semilavorato sia degli strumenti per lavorare le pietre dure e molto interessante lavoravano pietre preziose e il marmo anche perché si è stato trovato un ritratto in corso di riparazione diciamo ma abbiamo chiaramente i pistores cioè tutto ciò che riguarda il campo pane e c'è un forno che ha conservato addirittura la collezione di teglie e di forme per i prodotti da forno eccezionale con la sua casa lui abitava al piano superiore e ancora interessante sempre parlando degli strumenti sapete che a un certo punto una parte della popolazione di Ercolano cercò di scappare di salvarsi dalla furia del vulcano e Plinio il Vecchio le cui ultime ore noi conosciamo attraverso una lettera che il nipote Plinio il Giovane manda a Tacito che era cioè lo storico Tacito che era amico di Plinio il Vecchio il quale era oltre ad essere un grande studioso era anche l'ammiraglio della flotta pretoria di Miseno allora Plinio il Vecchio lancia una spedizione di salvataggio e non è un'interpretazione lo dice la lettera e c'è un certo punto che lui riceve lui voleva prima osservare il fenomeno vulcanico poi arriva la lettera di questa Rezzina forse la moglie del suo collega di Ravenna che dice io sono disperata aiutatemi salvatemi allora lui che aveva prima fatto mettere a mare la nave ammiraglia dice togliete questa nave prendete le quadriremi plurale le quadriremi perché e va perché vuole portare aiuto alle popolazioni perché dice la zona era intensamente abitata quindi gli abitanti di Ercolano stavano cercando di fuggire e ognuno si era portato le cose per lui più importanti alcune persone sono portate delle cose per noi molto interessanti a livello dei mestieri del lavoro per esempio c'è una cassetta di bronzo con all'interno gli strumenti per un chirurgo che operava era un oculista perché sono degli strumenti di precisione per poter fare operazioni di quel tipo e poi un'altra cosa che mi ha molto colpito è stato che tra i vari scheletri si è trovato un solo soldato un unico soldato noi non abbiamo notizia di guarnigioni né a Pompei né a Ercolano abbiamo epigrafi che dicono che c'erano soprattutto a Ercolano dei soldati ma questi erano andati lì per passare gli ultimi anni la loro vita oppure erano originari di Ercoli di Pompei per esempio nel caso Pompeano poi non c'era poi non c'era motivo di avere guarnigioni nel 79 dopo Cristo lì non c'era nessun motivo in realtà questo uno di questi soldati ritrovato poverino spiaccicano sull'antica spiaggia aveva oltre al suo armamento di ordinanza quindi non era intenuto dalla guerra era però in armatura d'ordinanza quindi doppia spada e cinturone appesa a questo cinturone d'argento aveva un sacchetto uno zainetto sulle spalle dello zainetto sono stati è stato ritrovato a una serie di strumenti tra i quali un punteruolo e due scaptra che servivano per piallare il legno lavorare il legno e questo appunto mi ha fatto pensare che insieme a tante altre testimonianze appunto anche epigrafiche da tombe che si trattasse di proprio un fabber un fabber navalis il fabber non è il fabbro il fabber è quello che lavora in legno nel mondo antico quindi uno che lavora in legno nell'ambito della flotta e che aveva questi strumenti perché stava coordinando le operazioni di evacuazione e aveva necessità di avere con lui gli strumenti per pronto intervento quindi un geniere dell'esercito infatti è interessante prima pensavo quando dicevamo non c'è nel mondo nostro ovviamente una di cioè che questi lavori fossero statali nel mondo romano un'eccezione ce l'abbiamo ed è il momento della guerra quando c'è il momento della guerra il lavoro artigianale entra prepotentemente anche nell'immaginario romano la colonna traiana ci dà una serie di immagini strepitose di questi soldati che non erano solo i soldati che ci sono le scene di battaglia questo lo sappiamo ma poi tantissime scene in cui loro costruiscono ponti acquedotti strade e lo fanno con gli strumenti hanno proprio il loro armamentale cioè si trasformano da soldati a operai con varie specialità e con varie mansioni e quindi a questo punto stanno a diventa queste scene che abbiamo qualche volta anche rappresentazione dei lavori così artigianali li abbiamo dal punto di vista iconografico in qualche mosaico quando si parla delle stagioni perché poi tutto ciò che riguarda il mondo agricolo invece era ritenuto era l'unico mestiere che pure nell'ottica di un nobile come Cicerone si salvava quell'attività là era un'attività che andava bene perché la vecchia attività dei romani di quella sussistenza antica e questo andava bene e poi abbiamo qualche scena in zone provinciali dove vediamo per esempio dei cantieri di edili che vengono messi in campo e vengono in qualche maniera rappresentati quindi appunto questi operai specializzati laddove appunto come non so se in maniera simile non ho capito bene o differentemente dal caso egiziano purtroppo quasi sempre è un artigianato un'attività al mondo del lavoro anonimo dove soprattutto i ruoli alti non si conoscono i nomi non ci sono abbiamo pochi nomi di architetti nel mondo antico romano e pochi nomi di pittori pochi pochi veramente si contano sulle dita di una mano cioè io conosco Costuzio che era un'olimpia repubblicana che va a completare l'olimpiaion di no perché Antico IV che gli fa completare l'olimpiaion di Atene e gli fa fare un acquedotto gli fa fare un acquedotto in bitina perché chiaramente i romani ci sanno fare con gli acquedotti quindi aveva portato l'architetto romano poi è stato documentato da qualche scoperta recente questo Scevola Mocchios Scevola che era uno forse un liberto della famiglia di Muzi Scevola e che fa una serie di ninfei lui si definisce architetto proprio nell'escrizione ma in genere appunto non è un mondo che dà poi c'è vabbè c'è ovviamente l'architetto Apollo d'Oro di Damasco che era l'architetto di Traiano quindi sono grandi nomi però Vitruvio chiaramente Vitruvio questo mi pare il punto sul quale forse possiamo anche fare una riflessione conclusiva cioè i modi le forme di dipendenza che nel mondo antico greco ellenistico romano tardo antico sono varie si intrecciano cambiano da una zona all'altra c'è un libro intero o quasi di Ateneo di Naucrati quindi anche lui bene o male di ambiente egiziano che scrive in greco alla fine del secondo secolo in cui fa una sorta di catalogo dei modi di dipendenza mescolando informazioni di epoche molto diverse e anche lasciandoci capire che la dipendenza personale non è uguale nel Peloponneso in Tracia in Tessaglia ad Atene nella Grecià occidentale e usa dei termini tecnici specifici per indicare le varie forme di dipendenza l'idea di appunto far assumere dallo Stato o dalla città nel caso delle pole greche la direzione il lavoro la prestazione d'opera di questi che non hanno la libertà personale varia non sempre ci è chiarissima la differenza lo stesso Ateneo usa dei termini diversi per indicare cose simili non so i penesti della Tessaglia che non riusciamo a capire benissimo che tipo di dipendenza avessero addosso ma sembrerebbero simili agli iloti della Laconia quindi con una bella distanza geografica con tanti problemi connessi mentre sull'Egitto antico c'è intanto il mito generico letterario degli schiavi che hanno costruito le piramidi celebri poesie che noi rispettiamo ma che sono completamente sbagliate ma forse si può anche dire che la dipendenza personale non è necessariamente da un singolo proprietario e quindi addirittura la differenza fra lavoro libero otto ore di lavoro è una conquista spettacolare va bene nell'ambito di una situazione concreta di dipendenza da un padrone remoto cioè lo stato o addirittura il faraone in persona ecco questo tipo specifico di vari rapporti di dipendenza nel mondo egizio sarebbe illuminante per noi che ci occupiamo invece di un'altra realtà sì va anche sottolineato il fatto che noi stiamo parlando di personale che lavora alle dipendenze del faraone o del tempio per costruire dei monumenti specifici che sono dei monumenti che sono dedicati al culto del faraone che è l'unico che può garantire la sussistenza dello stato e del cosmo in generale perché non è solo la sussistenza statuale ma ovviamente il suo livello religioso e poi la costruzione dei templi quanto concerne le piramidi sappiamo che esisteva un lavoro di corvè quindi nei mesi in cui non si poteva lavorare nei campi o quindi in estate e inizio dell'autunno quando vi era il Nilo l'inondazione del Nilo in quel periodo il personale poteva lavorare in lavori per lo stato cioè veniva selezionato per lavorare per lavori dello stato devo anche però sottolineare che noi abbiamo una conoscenza parziale di come funzionasse la società ed Ermedina è illuminante da questo punto di vista perché abbiamo pochissima archeologia di insediamento quindi noi troviamo attestazioni di costruzioni di tombe quelle che gli egiziani chiamavano la per enjet la casa per milioni di anni e di templi la cui costruzione veniva secondo dettami ben precisi perché non era solo il perpetuare il ricordo personale ma il perpetuarlo secondo degli stereotipi ben precisi che permettevano che il cosmo e quindi il funzionamento dello stato in cui ripeto il sovrano non è sovrano ma è figlio del dio sole per cui esso stesso un dio aveva dei canoni ben precisi ne parlavamo prima di venire qui forse dovremmo essere noi molto più espliciti rispetto alla cultura materiale che trovate anche al museo egizio che riguarda un frammento piccolissimo di popolazione ma soprattutto proviene da luoghi ben specifici l'egittologia come ha ben definito il professor Asman ha questo bias siamo andati a scavare nelle necropoli e siamo andati a scavare nelle zone templari perché come basta guardare una cartina dell'Egitto vedete questa striscia sottile di terreno che era abitabile allora che è abitabile tutt'oggi le abitazioni domestiche erano costruite in materiale deperibili in legno e mattoni crudi così pure il palazzo del sovrano in pietra si costruiva i templi di milioni di anni e le tombe che si trovavano nel deserto occidentale noi siamo andati a trovarle lì lì abbiamo trovato una cultura materiale stupefacente però io dico sempre i miei studenti è come se un archeologo fra duemila anni andasse a scavare la necropoli dei papi e la biblioteca vaticana e dicesse a Roma nel 2022 si viveva così avremo una visione quantomeno parziale ecco questo non lo sottolineiamo mai abbastanza però è importantissimo perché dipende da dove noi siamo andati a scavare vi do un esempio che forse più di tutti vi illumina chiunque di voi sia stato in Egitto e sia andato a visitare l'antiquarium di Mitraina dove si trova questa statua di Ramses II statua adagiata a una statua monumentale quello è una delle poche cose che ci rimangono della capitale Menfi la capitale dell'Egitto di 3000 anni abbiamo fatto pochissimi saggi fatti in maniera esemplare da David Jeffrey e poi abbiamo scavato le necropoli quindi della capitale di 3000 anni dell'Egitto lo conosciamo attraverso le tombe dei funzionari ovviamente questo ci hanno delle immagini parziali delle proiezioni e quindi questo lavoro di dipendenza dallo Stato riguarda la costruzione delle necropoli delle necropoli reali e dei templi quale fosse poi l'attività invece lo conosciamo molto meglio anche noi in età ellenistica quando ovviamente i papiri ci hanno dato ci danno molte più informazioni e siamo completamente in un altro mondo volevo solo dire sempre in quest'ottica riguardo alcune figure fondamentali la figura del anche noi conosciamo praticamente pochissime personalità di pittori di artisti e di architetti anche perché si lavorava in funzione del Faraone per garantire una continuità dello Stato e quindi le personalità singole insomma non abbiamo come i vasi greci e poi non veniva detto abbiamo però delle eccezioni incredibili il primo innanzitutto di cui ci parla anche Erodote insomma è il primo architetto della storia che è Imhotep è colui che traduce l'architettura organica in pietra ed è colui che fece la piramide a gradone di Djoser diventa talmente importante da diventare esso stesso una divinità quindi noi abbiamo tantissimo in tutti i musei tantissimi bronzetti e statuette di Imhotep che vengono adorati perché è quella sapienza antica che gli aveva permesso di costruire quello che poi era un simbolo non so se ci avete mai anche riflettuto quanto la piramide nel plateau di Giza e di Saccara conosciamo circa 109 piramidi quindi dovete un attimo allargare lo sguardo rispetto a quello che pensiamo di conoscere come abbia cambiato profondamente la nostra conoscenza percezione del paesaggio sono come delle montagne in pietra che vengono costruite Imhotep viene conosciuto e poi lasciatemi citare almeno un altro grande artista che è Gevuti Messa altrimenti detto Tutmose di cui conosciamo il nome perché abbiamo la fortuna che la sua casa è stata scavata da Burkhart e all'interno quasi fosse stato messo in uno scaffale è stata trovata la bellissima testa di Nefertiti in gesso che si trova al Noir's Museum di Berlino però anche noi i nomi degli artisti li contiamo nelle dita di una mano forse proprio per quel concetto di dipendenza e di lavorare a servizio dello Stato per un bene più grande che era il bene che era il bene della continuazione stessa dello Stato stiamo lavorando tantissimo noi adesso per cercare di distribuire di riconoscere le mani degli artisti non sappiamo nemmeno come funzionassero le botteghe ci siamo fatti un'idea John Taylor ha scritto un bellissimo volume in merito conservatore al Museo Britannico ha scritto questi temporary workshops che potrebbero sembrare delle specie di ati di associazioni temporanee di impresa perché cosa succedeva gli abitanti di Tered Medina i quali lavoravano per lo Stato poi però avevano un'imprenditoria personale dal quale derivavano probabilmente la possibilità di comprare tessuti che era la cosa più importante lo vediamo in tutte le liste quando vengono rubati dei tessuti è un danno incredibile quindi si organizzavano fra di loro evidentemente a seconda delle necessità se trovavano un committente che è ovvero un aristocratico che chiedeva loro di costruire una tomba sempre su permesso e concessione del sovrano perché ricordiamoci che noi nei testi delle tombe leggiamo sempre più un aristocratico importante più ci tiene a sottolineare che lui è Semerwati è l'unico amico del sovrano e il sovrano gli ha dato i mezzi a disposizione perché lui potesse mandare delle squadre ad Assuan a prendersi il granito rosa per costruire il suo sarcofogo quindi diciamo che forse da questo punto di vista è un po' forse l'antitesi della Grecia non c'è il personalismo l'individualismo ma c'è uno stato fortissimo che predetermina poi la vita delle persone certo ma la scoperta dell'individuo non so se sia un grande o non grande passo in avanti ma lo dobbiamo ascrivere alla mentalità greca c'è sempre da ricordare Ecateo frammento 1 che dice io dico come sembra a me quel os e moi d'ok secondo me è un monumento ideologico fortissimo contro invece l'epigrafe rupestre così parla Dario e Dario parla per tutti Ecateo è un piccolo uomo però dice quello che penso io e questo secondo me è gigantesca come evoluzione e che è anche quello che noi troviamo invece nelle iscrizioni egizie è sempre Jed Meduin parole che devono essere dette da in genere gli dei oppure il sovrano insomma bravi questi greci direi tutto sommato ecco va bene grazie grazie grazie